Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutte ragazze e benvenuti in un nuovo video eccoci qui a fare il video recensione come stiamo facendo la nostra bella saga dei video recensione dei prodotti makeup e ora vi vado a parlare di lui, della mia base d'ombretto e posso dire la base d'ombretto quello di Deborah Milano che posso dire che è veramente un eccolo qui, prima cosa ve lo faccio vedere, questo è l'ombretto in sé, questo è l'ombretto e sarebbe tipo un ombretto per una base occhi e posso dire che uno mi sta piacendo molto perché è veramente bello, uno veramente portabile, uno buono, il senso buono, il senso che mi fa durare tutti, tutti, mi fa durare tutti gli ombretti in parecchie ore, da quando mi trucco a quando torno a casa e quindi posso dire che è meraviglioso di suo e posso dire che è uno dei primer occhi fantastici, una base occhi fantastica e che posso dire, una base occhi meravigliosa, mi dura parecchio gli ombretti e che posso dire, una meraviglia di base occhi e quindi ragazzi saluto qui, questa è una piccola recensione, ma io faccio piccole perché non è stato uno stare tre ore a parlare, meglio di no e quindi ragazzi vi mando un grande bacio, ci vediamo ai prossimi video, mi raccomando state sempre qui nel canale su Mari Makeup che vi farò uscire i più belli video, più belli del che mai, giusto? E quindi rimanete qui nel canale Mari Makeup per tutti i video, poi andate, andatevi, soprattutto iscrivetevi al canale Mari Makeup, accendete la campanella se siete nuovi, mettete tanti like e soprattutto commentate in tanti, ok? E soprattutto passate sull'altro mio canale, il mio secondo canale, quello dei vlog, quello dei vlog, non vi preoccupate sull'altro mio canale che è Marilena la Superviva Sagiomo09, quello dei vlog, e ovviamente per stare sempre aggiornati su di me andate su Instagram, Marilena Sagiomo09 alias Mari Makeup, e per le altre informazioni, tutto nell'info box, ok? Vi mando un grande bacio e ci vediamo nei prossimi video, ciao a tutti!